che mira a ricostruire il rapporto di fiducia tra cittadini e magistratura. Perché è così ineludibile e cosa cambia in concreto? Ineludibile innanzitutto perché c'è una scadenza. Bisogna rinnovare il Consiglio Superiore della Magistratura e bisogna avere una nuova legge elettorale prima di luglio. Ineludibile perché la stessa magistratura vuole recuperare la credibilità che è stata un po' sfregiata da alcuni episodi importanti di questi anni e i cittadini hanno diritto di poter avere fiducia nei giudici che esercitano una funzione così delicata che riguarda le loro vite. Come queste regole possono evitare nuovi scandali e rafforzare l'autonomia della magistratura rispetto alla politica? Guardi, ci sono tanti punti che colpiscono proprio questo problema. Uno di questi è quello delle cosiddette porte girevoli. Un magistrato che decide di intraprendere un'esperienza politica poi non può tornare a svolgere funzioni giurisdizionali. Un cambiamento importante rispetto alle regole attuali. Un altro punto che mi sento di segnalare è quello delle cosiddette nomine a pacchetto dove si erano manifestati un po' di scandali negli ultimi anni e cioè quel modo di assegnare gli incarichi direttivi di vertice negli uffici giudiziari attraverso logiche spartitorie. Le nuove regole non dovrebbero più permettere questo. Sono in fase di autazione la riforma del processo civile e la riforma del processo penale. A che punto siamo? Stiamo attuando le deleghe che sono state approvate dal Parlamento nella scorsa estate in fase di elaborazione i decreti legislativi di attuazione sia per il penale che il civile arriveranno sicuramente entro la fine dell'anno ma io spero anche prima.